Tutti insegnanti? No, no, io ho gente di assicurazioni, in centro proprio niente, ma comunque è un problema che... No, grazie, perché sentiamo che abbiamo i libri, e quindi abbiamo i libri, e comunque i libri a scuola se li abbiamo tutti. E poi l'esistenza scolastica, abbiamo dei fondi, adesso dobbiamo ristrutturare le scuole, anche per lo sicuro. Ce ne avete tanti, ci basta da fare. Tante, tante, tante. Speriamo però che le priorità che date, insomma, risolviamo. Che nuove cittadini sono gli alunni, quindi bisogna formare bene loro. Sì, avvocato, avvocato, non spieghiamo che gli avvocati difendono i diritti dei cittadini, se non è un'utilità in Italia. E' perché forse qualche sentore di contrarietà, io ce l'ho. Ma iniziamo dai magistrati. Grazie per essere. Mi raccomando, coda 100. l'impegno che in effetti c'è la situazione. l'impegno che in effetti è la situazione. Ma magari, magari... Il figone è il figone del suo periodo. Grazie a voi. Siamo venuti da un anno. Da un anno, da un anno, da un anno, da un anno. Da un anno, da un anno, da un anno, da un anno. Berlusconi, questo è davvero... Ma ne mangi uno. Berlusconi le ha fatte le praline, lei le assaggi. Sono a dieta ma lo faccio per lei. Siete, com'è questa cioccolata? Volete? Com'è questa cioccolata? Grazie. 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 Grazie.